Domenico, grandissimo sforzo ma massimo risultato. Sì, oggi la cosa più importante era portare i tre ponti. Seconda giornata d'Eurolega, perdere oggi significava compromettere tutto il lavoro che abbiamo svolto fino ad ora. Quindi abbiamo fatto anche, secondo me, una bella partita e abbiamo meritato i tre ponti. Nel primo tempo le squadre forse si sono equivalse, insomma, abbastanza equilibrate. Nel secondo tempo ho visto molto più forte dei marmi. Sì, non abbiamo commesso l'errore che abbiamo commesso l'ultima volta settimana scorsa di un po' abbandonarci al gioco che fanno loro e abbiamo controllato il nostro gioco. Quindi i risultati si sono visti. C'è stato un momento che Grimald si è guadagnato ben più di pane e salame. Insomma, ha dovuto lavorare tantissimo, anche un po' di sfortuna forse. Sì, noi abbiamo provato e riprovato dal primo minuto a tirare in porta, cosa che alcune volte non facciamo e dobbiamo continuare sempre su questa strada. Vale è stato bravo. L'ultima cosa, i miei complimenti a te personalmente, alla squadra, ma anche a te personalmente. Ho visto dei recuperi impressionanti. Grazie, io ce la metto sempre tutta quando ho l'opportunità, sono lì pronto. Adesso, stasera festeggiamo, domani non so quale sarà forse scarico e poi si parte subito per Bassano. Sì, sì, domani mattina scarico, poi da sabato già continuiamo ad allenarci, già con la testa a Bassano perché sarà una partita difficilissima. La formazione del Bassano, abbiamo visto, può contare su un organico discreto perché poi i nomi non sono tutti di primissimo piano, però con un'organizzazione veramente notevole, servirà qualcosa in più forse? Sì, servirà sempre qualcosa in più nelle prossime partite, la tensione è giusta, soprattutto su una pesta difficile come quella di Bassano. È detto bene, è una squadra organizzata e quindi dobbiamo essere concentrati e cercare di sbagliare il meno possibile, approfittare anzi dei loro errori.